Nel contesto del progetto regionale La cultura non si ferma, sta anche un'altra iniziativa dell'IBC che vogliamo presentarvi, hashtag la bellezza che ci manca. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del patrimonio culturale che in Occidente è spesso frutto anche di un'assenza, un'assenza forzata come accade durante il periodo napoleonico che genera nostalgia e che genera quindi un desiderio di recuperare la bellezza perduta. Questo è un evento importante che soprattutto ai primi dell'Ottocento genera nello Stato Pontificio le prime grandi iniziative di protezione, quelle moderne, e cioè il chirografo FEA del 1802, l'editto PAC del 1820. Ma noi sappiamo che la perdita di bellezza è sempre stato un argomento che ha accompagnato la selezione del patrimonio. E oggi che ci troviamo a vivere in una situazione nella quale non possiamo fruire della bellezza, che cosa ci manca di questa bellezza? Questo è il momento di chiederselo anche per poter domani meglio tutelare le nostre cose, i nostri oggetti, i nostri paesaggi, i nostri musei, le nostre città. Che cosa ci manca veramente in queste ore, in questi giorni, in queste settimane in cui siamo costretti a vivere chiusi in casa, reclusi in qualche modo in una specie di contumacia volontaria? Che cosa davvero manca di questa bellezza che abbiamo intorno? Ci mancano i paesaggi, ci mancano le passeggiate peri urbane, ci manca la fruizione dei musei, ci mancano singole opere d'arte oppure ci manca lo schema della città, la possibilità di alzare mentre si passeggia distrattamente lo sguardo e vedere che so la Torre degli Asinelli o la Ghirlandina, ci manca questo? Ebbene noi proviamo a lanciare questa iniziativa proprio per fare in modo che in questa fase tutti i cittadini ma anche gli studiosi ovviamente a partire dalle persone che si occupano e sono appassionati di patrimonio culturale si pongono e si rispondono a questa domanda. Lo facciamo adesso mentre è in corso la crisi perché dopo non sarà più la stessa cosa, quando la crisi sarà passata il nostro modo di vedere le cose sarà già cambiato e spesso il velo diafano della nostalgia avrà in qualche modo relegato in una sfera di oblio anche quello che noi stiamo percependo ora e quindi è importante dirlo adesso. È importante che ci liberiamo l'animo di questa carenza, di questa assenza, che lo diciamo esplicitamente, che costruiamo una nostra forma di elenco, di catalogo, di grande album immaginario, virtuale nel quale segniamo ciò che in questo momento vorremmo vedere e non possiamo vedere, del nostro grande patrimonio, la bellezza che ci manca.